Salve, in questa lezione esamineremo i temi della poesia pascoliana, quei temi cioè che sono ricorrenti nelle sue opere. In premessa è utile sapere che tutta la produzione poetica di Giovanni Pascoli si può dividere in due filoni tematici, che sono questi. Da un lato abbiamo un Pascoli pedagogico e scolastico e dall'altro un Pascoli decadente. Vediamo cosa significa questa distinzione. Cominciamo dalla prima area tematica, quella pedagogica e scolastica. Certamente possiamo affermare che sulla base delle poesie lette Pascoli è un poeta decadente per sensibilità e visione del mondo, un poeta come abbiamo visto che non crede più alla scienza ed è un visionario nel senso che attribuisce alla poesia il compito di decifrare il mistero contenuto nella realtà, anche nei suoi aspetti quotidiani. Tuttavia, come intellettuale e nella vita quotidiana, non è certamente il prototipo del poeta maledetto, un poeta cioè controcorrente, che vuole con una vita sregolata e disordinata contestare i valori e il modo di vivere della borghesia dominante. Al contrario, egli incarna esemplarmente l'immagine del piccolo borghese che conduce una vita normale, una vita mediocre, un poeta chiuso nella sfera privata e protettiva degli affetti domestici, degli studi, del lavoro, della cosiddetta pace del nido. Allora, con questo modo di pensare e di essere, nella letteratura egli si presenta come il celebratore della realtà piccolo borghese e dei suoi valori. E questa è la cosiddetta funzione pedagogica della poesia, di una poesia cioè che ha un fine pedagogico, cioè di insegnamento, di insegnare, trasmettere con toni predicatori tante volte, alcuni ideali, alcuni valori propri della piccola borghesia del tempo al quale Pascoli sentiva di appartenere. E allora andiamo ad esaminare questi temi del Pascoli pedagogico. Innanzitutto, in molte poesie c'è la celebrazione del piccolo proprietario rurale che vive accontentandosi del proprio terreno, che da un lato gli garantisce il guadagno necessario per vivere e dall'altro la dignità di essere una persona libera che non dipende da altri. La sua serenità e la sua felicità derivano da questo sapersi accontentare del poco, dal saper apprezzare le piccole cose. È un uomo che non invidia chi ha più di lui, che non desidera quindi conflitti con gli altri, ma che ama vivere in pace cooperando fraternamente con gli altri. Legato all'ideologia piccolo borghese è anche il tema del sogno di un'umanità in cui gli uomini si sentano fratelli e non nemici, perciò senza lotte sociali, uomini che nel dolore si dimostrano solidali. In questo ambito rientrano per esempio le poesie ispirate da un certo sentimentalismo patetico, quelle in cui si parla di piccoli mendicanti, di bimbi morti nel freddo e nella miseria, di piccoli orfani, di madri che hanno perso i figli, eccetera. Era una tematica molto sfruttata dalla letteratura dell'epoca, come dimostra per esempio il libro Cuore di De Amicis. È questo il pascoli predicatorio e sentimentale che per molto tempo ha trovato largo spazio nei libri di testo, soprattutto delle scuole elementari, dove i bambini imparavano a memoria i suoi versi, considerati dalla scuola dell'epoca, utili per formare i bambini stessi ai valori della solidarietà, della fratellanza, eccetera. Un pascoli semplice che risultava quindi utile per formare le nuove generazioni. Per veicolare poi questi temi, pascoli si serve di alcuni miti, cioè di alcuni motivi reali che ricorrono frequentemente nella sua opera, nella quale assumono una particolare importanza. È il caso del fanciullino che c'è in ogni uomo, potremmo dire la nostra parte ingenua e buona, che se ascoltata garantisce la bondà, la fraternità e la pace tra gli uomini, i quali invece non ascoltano la voce di questo fanciullino e perciò divendono cattivi, violenti. L'altro mito è quello del nido, il nido familiare, visto come l'unico conforto e riparo da una realtà esterna percepita come violenta e minacciosa. Al nido poi è collegata la devozione e la fedeltà ai propri morti. Pascoli presenta l'assassino del padre come una vicenda esemplare, cioè da proporre come esempio agli altri, dato che lui e la sua famiglia hanno perdonato gli assassini del padre, non govando quindi sentimenti di odio e di vendetta. A un certo punto, nella parte finale della sua vita, Pascoli comincia ad avere l'ambizione di essere il poeta ufficiale dell'Italia, quello che come scrive nel fanciullino è colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detto. In questa direzione diventerà ad un certo punto il poeta Vate, una sorta di spirito profetico e sacro al quale guardano gli abitanti di un popolo come una guida, insomma. Diventa cioè il candore ufficiale delle glorie della patria, che dice che il riscatto dell'Italia proletaria passa attraverso la conquista della Libia, eccetera. In questo modo diventa il poeta che interpreta la visione della vita, i sentimenti, i sogni di larghi strati della popolazione italiana nel tempo, ma hanno lo stesso ruolo in quegli anni. C'è anche Gabriele D'Annunzio, con una differenza. D'Annunzio con le sue poesie offre alle masse piccolo-borghesi il sogno evasivo di gloria, di lusso, di lussuria, attraverso i quali questi piccolo-borghesi possono evadere dalla mediocrità e dalla routine quotidiana, della vita quotidiana, insomma. Pascoli invece ribadisce per radicarli nei piccolo-borghesi la fede in alcuni valori fondamentali come la proprietà, la famiglia, i morti, l'accontentarsi del poco, la pietà per i sofferenti, tutti i valori che il piccolo-borghese possiede già e questo lo fa sentire sicuro. Tuttavia questo Pascoli pedagogico, pur avendo un suo innegabile valore civile e morale, nel corso degli anni, soprattutto nella seconda parte del Novecento, è stato giudicato poco originale ed è stato soppiantato nei gusti della critica da un altro Pascoli, quello che definiamo decadente. Voglio dire che è stato giudicato più valido nei risultati e maggiormente rispondendo ai bisogni dei tempi nuovi, il Pascoli che nei versi mostra una sensibilità decadente, cioè un poeta inquieto, un poeta tormentato, visionario, nel senso che ha una vista da veggente, che vede oltre le cose. Un poeta senza dubbio più in sintonia con il decadentismo europeo. Un poeta che sa trovare nelle piccole cose la presenza del mistero, della realtà cioè misteriosa che si nasconde tra piccoli oggetti, realtà che solo il poeta sa decifrare, pensiamo a testi come Lavandare o ai puffini dell'Adriatico o anche all'Asciolo. Ho anche un Pascoli apprezzato come poeta che proietta nella poesia le sue ossessioni, le sue paure, che sente in ciò che lo circonda la presenza della morte. Quello che, pensando per esempio all'immensità del cosmo, prova un sentimento cosmico, una vertigine, come scrive nell'omonima poesia. Perciò accanto al Pascoli pedagogico esiste un Pascoli più vicino alla moderna sensibilità, un poeta che sa dar voce alle forze irrazionali oscure che sono dentro di noi. Da questo punto di vista possiamo dire con certezza che egli molto più di D'Annunzio è il poeta italiano che rappresenta meglio il decadentismo, perché ha saputo dare voce alle forze irrazionali, agli smarrimenti, alle angosce che hanno vissuto gli uomini del suo tempo. Uomini vissuti in anni in cui i punti di riferimento, i cosiddetti valori, la scienza, la conoscenza della realtà esterna e del Dio stesso, ormai questi valori non esistono più. Il discorso fin qui fatto non ci deve far pensare ad un Pascoli scisso in due, ma piuttosto a due lati della sua personalità, che hanno tuttavia una radice comune, che è rappresentata proprio dalla paura del poeta per il futuro, un futuro percepito più come una minaccia che come una speranza di miglioramento. Pascoli era preoccupato dal fatto che la piccola proprietà, che garantiva, come abbiamo detto, dignità e libertà ai piccolo borghesi, stava cedendo il passo ai grandi proprietari latifondisti, che concentravano nelle proprie mani grandi appezzamenti. Era la cosiddetta concentrazione monopolistica. Inoltre sentiva oscuramente che questo processo avrebbe portato inevitabilmente a conflitti imperialistici, tra nazioni, con una possibile guerra e possibili regimi totalitari. Di fronte a questo futuro egli ha paura, e come risponde a questa paura? Il Pascoli pedagogo, diciamo, si aggrappa ai valori, ai punti fermi della sua visione, il nido, la fraternità, le piccole cose che danno sicurezza. Scrive in nebbia, che io veda soltanto la siepe dell'orto, le mura che appiene le crepe di Valeriane. Cioè, le piccole cose che in tempo di incertezza diventano rassicuranti, come i punti fermi ai quali aggrapparsi. Chiudersi in questo piccolo orizzonte limitato è per lui come fare un esorcismo, un rituale per scacciare o per neutralizzare il male. Questo in alcuni momenti. In altri, invece, il poeta, davanti al male, ad un futuro che si colora di nero, si mette ad esplorare cosa c'è nel fondo irrazionale di se stesso. Allora emergono le paure, i mostri nascosti, facendo emergere appunto il lato più irrazionale di noi stessi. E' questo il cosiddetto Pascoli decadente.